ciao ragazzi bentornati da marco azzurro in un nuovo video su questo canale youtube iper mega galaticometro che oggi andrà oggi andremo a parlare ragazzi del napoli ovviamente ovviamente parliamo sempre del napoli su questo canale anzi vi dirò di più se volete ancora più video sul napoli non esitate a scrivermi qui sotto perché in questo momento sto un po abbandonando il napoli per parlare di più di fifa per giocare a fifa scusate o per parlare di calcio giocato quindi se volete più video sul napoli ditelo e sarete accontentati domanda offerta io esaudisco i desideri diciamo così però adesso devo parlare in maniera seria perché è arrivata una bella notizia ma stanno arrivando delle notizie cattivelle allo stesso tempo cattivelle perché non sono proprio cattive ma potrebbero diventarlo bella notizia o si man ha ricevuto la maschera in silicone se non sbaglio comunque in materia in materiale molto duro che gli permetterà di rientrare prima in campo perché appunto gli garantirà una gran protezione e quindi rientrerà in campo con questa maschera e potremmo riavere victor osimendo a disposizione entro un mese ciò vuol dire che molto probabilmente salterà la coppa d'africa altra questa notizia buona se così la possono definire perché comunque osimendo da star fuori tre mesi è passato un mesetto e mezzo quindi i tempi di recupero non è che si siano accorciati così tanto con questa maschera però adesso c'è una prospettiva che rientri tra un mesetto quindi ragazzi una buona notizia per il rientro del nostro centro avanti che in partite come quella contro l'Empoli ci sta mancando davvero molto accanto al discorso simen parliamo delle notizie bruttarelle perché ragazzi ha parlato oggi spalletti nell'intervista pre match che riguarda ovviamente milan napoli e ha detto che si prende le responsabilità come giusto che sia per le ultime sconfitte e ragazzi adesso questo milan napoli diventa un match veramente importante so che molto spesso mi ritrovo su questo canale a dire questa cosa perché effettivamente reputo tutte le partite importanti ma in questo caso abbiamo veramente una partita che con un napoli quarto milan secondo un inter che non si ferma più diventa un crocevia diventa un crocevia perché tu ora se vai a milano a vincere ribalti la classifica a tuo favore se il milan vince è game over secondo me cioè oddio vai nel calcio non si può mai dire la stagione non è finita tutt'altro siamo neanche a metà e quindi tutto si può si può contro ribaltare però se il milan domani vince mette una bella pietra sul nostro sasso di giocerti una bella pietra sul nostro sasso cioè voglio dire ccc capesta ampiamente non so come fare come rendervi l'idea in maniera più drammatica possibile però cc aumenta il divario ragazzi e quindi domani ovviamente si deve vincere domani quindi la polimila la rosa non è al massimo manolas è stato venduto vabbè che sì ce ne preghiamo assai ormai manolas però domani si deve vincere si deve fare l'impresa giochere a mertensi da quanto dicono le i pronostici per quanto riguarda la formazione e speriamo bene e speriamo bene io io non voglio fare pronostici su questa partita perché sono abbastanza teso io mi ricordo che vi ricordo anzi che fino a due settimane fa napoli era un'ottima situazione di classifica era primo e c'era il milan a contenderci il posto il primo posto appunto ora la situazione si è completamente ribaltata stiamo giocando contro atlanta atalanta e milan per il secondo perché l'inter non si ferma più e magari domani potrebbe essere un punto di partenza davvero davvero importante speriamo bene ragazzi sempre comunque forza napoli ci vediamo domani per il match per il post partita appunto di milan napoli ciao a tutti